Buonasera a tutti da Radiospeaker.it, io sono Manuela Get Lucky su Radiospeaker.it Una parola difficile, vai in uno contro uno con Carzorp, va sul fondo, c'è la no, blu, rientra sulla destra Ancora uno, due, non chiuso stavolta Si è frizzato il mixer? Dopo l'influenza se senza corrente Facciamo brillare l'occhio Questo dentifricio lo fa Facciamo brillare l'occhio